ciao a tutti raga qua è santa e oggi vi porto il video tutorial sul mio esercizio preferito per il dorso ovvero il seal row quello che io chiamo anche la panca del dorso e adesso vi spiegherò perché è uno dei migliori esercizi che ci siano perché presenta un'esecuzione molto sicura visto che siamo appoggiati alla panca non rischiamo di farci male alla schiena è un multi articolare quindi offre una grandissima disponibilità in termini di progressione dei carichi nel tempo e ha dei punti di riferimento in quanto a rom range of motion costanti il che ci rende più obiettivi oggettivi nel giudicare il nostro progresso partiamo con l'esecuzione come potete vedere la stance degli arti superiori è leggermente maggiore rispetto alla larghezza delle spalle più o meno una larghezza di impugnatura con cui effettuereste una panca piana a presa media può essere una buona linea guida in generale una larghezza che vi permetta una volta arrivati a fine concentrica di avere un angolo di circa 90 gradi tra braccio e avambraccio e gli avambracci perpendicolari al bilanciere in questo modo si eviterà un'eccessiva compressione sul gomito data dalla troppa flessione e si avranno anche delle linee di spinta più ottimali a livello di setup visto lateralmente come potete vedere manteniamo le curvature fisiologiche della colonna è permessa una leggera estensione in più giusto per aiutarci a guadagnare compattezza e a pretensionare il dorso prima di iniziare la ripetizione ma comunque sia anche volendo sarebbe veramente dura perdere un corretto posizionamento della colonna proprio perché sia il petto appoggiato alla panca come potete vedere una volta che arriviamo a fine concentrica l'avambraccio è sotto il gomito non perfettamente ma è abbastanza in linea con il gomito questo ci permette appunto di esprimere la massima forza possibile muovere il maggior carico possibile che appunto ci aiuta a sviluppare il nostro dorso a livello di muscolatura coinvolta ovviamente lavora tutto il dorso ma per una questione di direzione dei gomiti e apertura dei gomiti stessi che non sono appunto troppo chiusi vicino al busto questo rematore rispetto a un rematore con bilanciere in piedi più classico vede lavorare leggermente di più la muscolatura che si occupa di addurre le scapole e in pratica l'upper back mi piace considerare questo esercizio un vero e proprio fondamentale come una panca uno squat uno stacco da terra questo perché ci permette veramente di alzare carichi importanti e ci permette di progredire nel tempo molto bene come ho detto di conseguenza anche la respirazione sarà affrontata in maniera analoga una manovra di valsalva che ci permette di guadagnare la massima compattezza e tensione e stabilità prima di iniziare la ripetizione in questo modo massima performance scusate l'inquadratura raga ma ho appena finito di dirvi che questo esercizio è una figata proprio perché l'esecuzione è molto sicura non solo il petto è appoggiato sulla panca ma siamo tutti appoggiati sulla panca inoltre oltre ad essere sicura evita anche i cheating infatti non possiamo aiutarci con le gambe tuttavia come potete notare ci saranno dei movimenti involontari degli arti inferiori che se non troppo accentuati ed esagerati sono totalmente nella norma sembra che vi facciate una nuotatina sulla panca l'impugnatura è comunemente prona con pollice ovviamente in opposizione ma questa inquadratura non l'ho fatta per farvi vedere la mia mano bensì per farvi notare il fatto che il bilanciere ad ogni ripetizione parte da una situazione di dead stop a terra questo combinato al fatto che la fine del rom in concentrica è rappresentata dalla panca quindi dal contatto con la panca ci dà due punti di riferimento chiarissimi per quanto riguarda le nostre esecuzioni e quindi anche per quanto riguarda i nostri progressi ok raga anche questo video è giunto al termine più che un tutorial era un video interpretazione per questo esercizio ma comunque se vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un like un commento di iscrivervi al canale e di seguirmi su instagram per tantissimi altri contenuti ciao e grazie